Si tratta del finanziamento della Banca Europea degli investimenti che consente di mettere a disposizione delle imprese siciliane finanziamenti a tasso zero fino a 20 anni, con un preammortamento di due anni, con importi fino a 5 milioni di euro, 2 milioni e 3 senza interessi, quindi con opportunità per affrontare la crisi e soprattutto per prepararsi alla ripresa. Certo la ripresa dell'inflazione, la guerra in corso in Ucraina rendono tutto complicato, ma non c'è in momenti di crisi altra opportunità per le imprese se non investire nel proprio futuro e questo dobbiamo aiutare a fare la nostra impresa attraverso questo strumento finanziario assolutamente innovativo. Grazie a tutti.